Intanto grazie a tutti per la partecipazione, questa è la prima tappa di una serie di tappe che insieme con il gruppo regionale faremo per scrivere insieme il programma regionale per le prossime elezioni. Oggi parleremo principalmente di energia ed economia circolare e agricoltura. Queste due tematiche sono due tematiche importanti per questa nostra provincia e vorrei citare solo due esempi per ognuna di queste due tematiche. Tutti sappiamo, tutti conosciamo la discussione che c'è in corso rispetto all'incenditore della nuova cartiera o della riapertura della cartiera Exburgo a qualche chilometro da qui. E questo è un tema che riguarda l'energia, perché questo incenditore serve o dovrebbe servire per produrre energia. E quindi una pianificazione anche regionale di come produrre energia, di cosa e quanta energia produrre in un'ottica di 10-20 anni è secondo me pregnante e riguarda anche la nostra provincia e le discussioni che sono in corso di attualità nella nostra provincia. E poi l'altro tema, oltre all'economia circolare, è l'agricoltura. E noi qui siamo una provincia a vocazione agricola. L'agricoltura e la zootecnia sono due importantissimi strumenti e importantissime sezioni che fanno parte delle attività produttive che caratterizzano la nostra provincia. E noi oggi vogliamo anche qui porre alcune riflessioni, alcuni ragionamenti sull'agricoltura e sul modo di fare agricoltura. E come lo faremo? Lo faremo con alcune nostre proposte, ma soprattutto lo faremo con alcuni esperti del settore. Perché vogliamo essere realisti? Perché vogliamo calare il programma nella realtà e nella realtà locale e non solo? E quindi ci avvarremo del supporto di due esperti che hanno esperienza, ripeto, del settore che poi presenterò sul palco. E per quanto riguarda l'agricoltura parleremo di come riuscire a valorizzare il ruolo dell'agricoltore anche come colui che tutela il territorio e l'ambiente, come uno dei primi attori che può tutelare il territorio e l'ambiente, questo però gli deve essere riconosciuto anche dal punto di vista economico. E poi ragioneremo sulla situazione attuale, la situazione attuale di come vengono spese le risorse europee e non solo, di come potrebbero essere impiegate meglio, soprattutto ragionando su quella che è l'esperienza attuale diretta di chi vive tutti i giorni per lavoro, per professione, questo tipo di problematiche, che è quello che poi faremo con gli esperti. E in più ragioneremo anche su un altro tema importante che riguarda la nostra provincia che è sempre stato molto approfondito, che è quello da noi molto approfondito, che è quello della proliferazione di una tecnica di spandimento fanghi in agricoltura. e ragioneremo come questo si può, con alcune, secondo me, buone pratiche, limitare, soprattutto limitare l'importazione, cioè quello che noi importiamo da altre regioni, quindi che non è cosa nostra, che non è cosa che produciamo noi ma che viene importata, che viene importata per logiche molto puramente economiche, soprattutto economiche, e ragioneremo anche di come questo può essere limitato con alcune idee, con alcune protoste. Poi tutto questo nel pomeriggio ci divideremo con chi vorrà in tavoli di lavoro e approfondiremo gli spunti di riflessione che sono venuti fuori questa mattina.